Il finale, incontro, lascio, prova! BOOM BASTE! BOOM BASTE! BOOM BASTE! BOOM BASTE! BOOM BASTE! Eh, non so! Va bene! Vi ancora sta mattina ai bummochi! BOOM BASTE! BOOM BASTE! BOOM BASTE! BOOM BASTE! GARLIGA NECENTO! INCHESTRO! SUGLA! SOCIETAS! CONTRIGO! AZZIO! ORA MAGNE NUMERO 35! CHRISTOS! AZZIO! ORA MAGNE NUMERO 29! MARUEL! AZZIO! ORA MAGNE NUMERO 4! AZZIO! AZZIA! AZZIO! IMAGNE NUMERO 2! AZZIO! ORA MAGNE ENTRO! AZZIO! AZZIO! con la maria numero 8, Marteo, Endussi con la maria numero 32, Danilo, Gratanti con la maria numero 5, Marteas, Erescino con la maria numero 7, Federico, Anderson con la maria numero 17, Danilo, Marteas con la maria numero 8, Marteas l'allenatore del Lazio, Maurizio a difensione con la maria numero 33 con la maria numero 6, Camara, con la maria numero 9, Pedro con la maria numero 10, Luis Sanderlo, con la maria numero 15, Casale roma numero 8, Elena, Libero 7, Donilo, Monti con la maria numero 16, Robo con la maria numero 17, Benis con la maria numero 2, Samara, esistante e a liberare la maria numero 5, Marteas e a liberare la maria numero 6, Camara, El Toro, con la maria numero 19, Funnestro, Capitá e a liberare la garia numero 10, Quanto Forest, Camara, Camara, ca...